Ultimo Gran Premio della stagione per quanto riguarda la Formula 1 2022 e tornano dunque i recent podcast per il commento del Gran Premio di Abu Dhabi per quanto riguarda appunto la massima categoria motoristica su quattro ruote. Era da un po' che non riuscivano i podcast sulla Formula 1 dopo aver parlato del mondiale conquistato sul campo a Suzuka da parte di Verstappen ho preferito dedicarmi ad altre categorie, avete visto i podcast soprattutto sulla Superbike in tempi recenti, torniamo però a parlare della Formula 1 per la digna conclusione di questo mondiale che in realtà è molto la cartina di torna sole di quello che è successo in questa stagione perché vince Max Verstappen ancora una volta su questa Red Bull dominante che va a veramente regalare la quindicesima vittoria in questa stagione al campione olandese che appunto legittima, quello che se ce ne fosse ancora bisogno, che è lui l'uomo da battere che probabilmente con questa base lo sarà anche per il prossimo anno. Una gara che non ha avuto storia, poi il position in qualificazione per quanto riguarda l'olandese, domino dall'inizio alla fine per la vittoria di Verstappen, l'unico motivo di interesse era evidentemente la lotta per la seconda posizione del titolo del mondo appunto tra Charles Leclerc e Max Verstappen e qui evidentemente per una volta la Ferrari può sorridere perché Leclerc compie una gara straordinaria, una gara da driver of the day mi verrebbe da dire perché con una sosta in meno riesce ad avere la meglio di Sergio Perez che ha tentato la stagione a due soste con le gomme dure e alla fine il pilota monegasco salva il salvabile a termini di una stagione che ha avuto degli alti e bassi, in ogni caso è una stagione che comunque viene conclusa in un modo dignitoso perché abbiamo visto una Ferrari troppo impotente in questi Gran Premi anche dopo il Mondiale finito, la Ferrari poteva evidentemente fare qualcosa di più ma soprattutto anche nelle piste dove poteva avere delle chance è stata praticamente outplayata, l'unica gara decente è stata quella di Carlos Sainz in Brasile dove evidentemente è arrivato un podio, il Brazil e per altri è stata anche l'unica gara divertente di queste ultime quattro del Mondiale le altre hanno lasciato veramente il tempo che trovano un po' come questa perché alla fine la gara di Abu Dhabi si può riassumere tranquillamente con una gara di strategia alla fine il succo della gara si riassume nella lotta tra Leclerc e Perez con Leclerc che fa una sosta sola e va con gomme medie e gomme dure Perez invece fa due soste con gomme medie, gomme dure e gomme dura alla fine il messicano come era logico che fosse andava a recuperare secondi su secondi, decimi su decimi alla fine però il distacco al cinquantottesimo giro di 58 è di un secondo e tre e di conseguenza Charles Leclerc è in seconda posizione nel campionato del mondo e comunque è un titolo seppur platonico che i piloti tenevano tantissimo abbiamo visto evidentemente in Brasile già degli screzi tra Verstappen e Perez per via del team radio non rispettato dello switch di posizioni tra l'olandese e il messicano perché è vero che come diceva Enzo Ferrare il primo dei perdenti è il secondo classificato ma è altrettanto vero che comunque essere dietro a questo Verstappen è sicuramente qualcosa che può inorgoglire i piloti singoli e può sicuramente dare una buona base per quanto riguarda i prossimi anni chi non lo vedremo invece ai prossimi anni sarà Sebastian Vettel, sappiamo perfettamente che il pilota tedesco si è ritirato al termine di questa gara di Abu Dhabi, gara di Abu Dhabi finita in decima posizione per il quattro volte campione del mondo con la Red Bull, un pilota che non ha mai vinto né prima né dopo per quanto riguarda le vittorie ridate ha sfruttato il periodo della macchina Red Bull prima versione di Adrian Lui, quella macchina clamorosa incollata a terra dove vinse quattro mondiali appunto due dominando, due lottati con Fernando Alonso alla fine si ritira un pilota da 53 vittorie in carriera, un pilota che è molto amato dal punto di vista umano e anche io sinceramente da quel punto di vista lo apprezzo tanto Vettel lo ritengo un pilota che comunque ha meritato i mondiali che ha vinto va detto però che come tutti i mondiali deve avere una macchina che andasse in un certo modo e quella Red Bull era veramente dominante, qualcosa di clamoroso non ritengo Vettel un pilota magari più all'altezza di altri che hanno vinto o meno nella storia di Formula 1 e anche in questo paddock è comunque quattro volte campione del mondo e bisogna dargli rispetto, questo è un evento che capitava appunto se non sbaglio il venerdì prima delle prove ribere con una corsa in pista letteralmente con Sebastian Vettel che ringrazia la Formula 1 per gli anni diciamo di servizio e tutti gli altri che hanno ringraziato appunto il quattro volte campione del mondo con la Red Bull, pilota ripeto dalle spiccatissime doti umane da quel punto di vista probabilmente uno dei migliori personaggi che ci sia in questo circus di Formula 1 nulla che vedere per esempio con Verstappen che è letteralmente uno strozzo ma questo è un altro discorso vedremo l'anno prossimo cosa farà dunque la Aston Martin che è al posto di un quattro volte campione del mondo ha preso un due volte campione del mondo ovvero Fernando Alonso che lascia con un ritiro l'Alpine in una gara comunque in colore ma in generale questa gara di Abu Dhabi è stata in colore ripeto nelle ultime quattro gare dopo Singapore il Brasile è stata la gara secondo me più interessante con il grandissimo successo di George Russell e con appunto questa doppietta Mercedes insperata Mercedes che poteva comunque far continuare la streak a Lewis Hamilton la streak ovviamente quella di una vittoria per ogni singola stagione al quale l'inglese ha partecipato ma evidentemente non era così questa Mercedes era molto in colore ad Abu Dhabi Hamilton appena deve ritirarsi per un problema al cambio e chiude con un ritiro questa stagione che sarà sicuramente la più difficile da quando il pilota inglese è su Mercedes una Mercedes che comunque non era assolutamente in lotta per il podio alla fine il podio viene completato da Perez che appunto nonostante la grandissima rimonta chiude terzo sono di fatto i tre migliori piloti che hanno concluso nelle prime tre posizioni in questa gara di Abu Dhabi che appunto vede la quindicesima vittoria in stagione di Max Verstappen che domina questo campionato a 454 punti Leclerc salva il salvabile con 308 punti è comunque il primo dietro al fenomeno Max Verstappen secondo me il distacco poteva essere secondo me più risicato se Leclerc non avesse sbagliato in qualche occasione vedi per esempio alle Castellee ma soprattutto se il muretto non avesse avuto modo di boicottargli le gare o fare strategie discutibili vedi per esempio a Silverson e terzo è Sergio Perez che si conferma la miglior seconda guida in circolazione perché un pilota che ti vince due gare che ti fa un sacco di podi e riesce a portare punti importanti per il campionato costruttori e ad altissimo livello è secondo me un plus che molte scuderie si sognerebbero di avere Perez va detto secondo me farebbe il primo pilota ovunque anche a questa età però evidentemente in questa Red Bull è destinato a fare il secondo e che secondo? perché fa il secondo a un pilota che ripeto non sarà simpatico ma neanche lontanamente ma comunque è un fenomeno quarto assoluto è George Russell che finisce quinto in gara perché è quarto c'è Carlos Sainz che ha avuto anche modo di vincere con questa Ferrari la gara degli altri con una Mercedes che sembra tornata in parte quella della metà iniziale della stagione però alla fine era una gara che contava fino a un certo punto i piazzamenti va detto oltre il podio contano fin lì perché appunto il mondiale era bel che chiuso dal Giappone e quindi velocemente scorriamo la classifica quinto George Russell l'abbiamo già detto sesto è Lando Norris con quello che resta della McLaren che secondo me è la delusione del giorno senza se e senza ma settima posizione per Esteban Ocon con l'unica alpina rimasta in gara ottavo è Lance Stroll che pound for pound compie una delle migliori gare della carriera non a posizione per Daniel Ricciardo che saluta la McLaren ma non la Formula 1 con appunto una posizione a punti Ricciardo pare faccia il terzo pilota l'anno prossimo in Red Bull e decimo appunto è quel Sebastian Pettel di qui sopra che chiude la sua carriera con una dodicesima posizione assoluta 37 punti totali è comunque una buona gara per il pilota dell'Aston Martin nonostante appunto una strategia assolutamente discutibile ha chiuso il campionato anche la Formula 2 che ha visto evidentemente il consacramento di Felipe Drugovic come campione regnante di categoria 265 punti è il punteggio totale del brasiliano che peraltro è preso appunto da Aston Martin e chissà che in futuro non ci sia spazio per il brasiliano che è veramente un fenomeno dal mio punto di vista in Formula 1 Drugovic è il pilota che ha vinto più gare in carriera in Formula 2 a pari merito con Nick De Vries che vedremo in Formula 1 e Artion Markov che invece non vedremo nella massima categoria Drugovic però fa due podi su due gare le gare le vincono rispettivamente Liam Lawson che è terzo assoluto quindi grande prestazione del neozelandese del team Karen Junior della Red Bull per il quale suona appunto God Defend New Zealand in seconda posizione abbiamo Riccardo Vesco pilota olandese del team Trident che ha vinto una gara in realtà due ma un allowance qualificato e torna sul podio dopo tempo in memoria terzo appunto è Drugovic che appunto nonostante abbia già vinto il campionato a Monza ha voluto dimostrare di lasciare la categoria da vincente in qualche modo e lo fa con due straordinari podi il secondo è appunto una seconda posizione dietro a un altro junior della Red Bull ovvero il giapponese Ayumu Iwasa su Team Dams che partiva in prima fila sia con lui sia con Roy Nissani alla fine il giapponese conclude in una buonissima prima posizione in gara e quinta assoluta del campionato di Formula 2 e terzo è Logan Sargent o meglio terzo è Liam Lawson che terza posizione invece per quell'Ian Lawson di qui sopra che si sta in terza posizione assoluta appunto nel mondiale Formula 2 e l'anno prossimo in un campionato a 14 gare attenzione perché Lawson secondo me sarà uno dei prediletti per il titolo del mondo della categoria intermedia della filiera Formula 1 Formula 1 con i tre protagonisti tra gli altri Logan Sargent pilota che ha vinto il titolo di rookie dell'anno in Formula 2 che l'anno prossimo andrà ad affiancare Alexander Albon in Williams ricordiamo che appunto Sargent è un opzionato della scuderia inglese è un campionato di Formula 2 che dunque è stato comunque deciso molto prima rispetto all'ultima gara di Abu Dhabi che l'anno scorso per la Formula 1 ha avuto un finale thrilling questa gara di Abu Dhabi è stata veramente probabilmente una delle più anonime viste negli ultimi anni appunto l'unico interesse ripeto era la lotta tra Leclerc e Pence per la vittoria platonica della seconda posizione e ha vinto Leclerc di 3 punti su Perez 308 contro 305 questo era l'ultimo racing podcast per quanto riguarda la Formula 1 e i racing podcast tradizionali evidentemente si concludono in questo contesto però la Formula 1 tornerà non solo l'anno prossimo ma anche nella prossima settimana perché ci sarà il pagionone definitivo della stagione e in quel caso non solo perché ci sarà la collaborazione con il buon Jake di Jake TV link in descrizione ovviamente al suo canale e anche nel tag nei commenti c'è una collaborazione attiva anche sul suo canale per quanto riguarda invece la Formula 1 simulata la Formula 1 giocata quella del gioco di Codemasters dove una carriera copo è sempre versando come è lui quindi andate sul canale ovviamente a vederla mentre iscrivetevi continuamente al canale per quanto riguarda i racing podcast e i video sul baseball che torneranno ovviamente anche l'anno prossimo insieme agli sport motoristici il saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo al prossimo video grazie a tutti